Scatta la sosta selvaggia in via De Nino a Sulmona ed è subito polemica, lo fanno notare pedoni automobilisti unitamente a qualche commerciante della zona. L'orario di punto è quello che precede l'attivazione della zona a traffico limitato, quando fra auto regolarmente parcheggiate e quelle messe in sosta nelle vicinanze delle attività commerciali è praticamente impossibile transitare nell'arteria stradale che conduce direttamente al centro storico. Ci sono dei giorni, intervengono in coro automobilisti ed esercenti, dove si crea una fila di auto proprio davanti agli esercizi commerciali, ostacolando una regolare viabilità. Nessuna polemica poerile sterile da parte di commercianti e utenti della strada, solo un invito a mantenere buonsenso. Il fenomeno fino a qualche tempo fa si verificava frequentemente in piazza 20 settembre, ma via De Nino, stando alle rimostranze di automobilisti ed esercenti, non è da meno.